Ciao! Da oggi c'è una grande novità! Vado? Davvero? Sì! Ragazzi, correte! Da oggi c'è la scolta punti Zanzasca! Partecipare è molto semplice, basta che dichiarate espressamente la volontà di aderire al concorso e potrete cominciare a fare il più bravo di quei punti. Ecco i premi! Raccogliete 5.000 punti e aggiungete dell'alcol per avere un bacio a stampo. 10.000 punti più smancerie varie e avrete un bacio con la lingua. 50.000 punti più una bella Honda Civic Type S nera equivalgono ad una notte d'amore! Come raccogliere i punti? È facile, bastano fritti, lassi e gesti eclatanti per guadagnarli, ma attenzione, potreste anche perdere! Anche io partecipo al grande concorso Zanzasca! Sì, anche io sono 8 mesi che partecipo, ma non ho ancora visto un cazzo! Concorso a punti valido fino al matrimonio del premio, non cumulabile con altre iniziative in corso. Outwin RIC 2007 Zanzasca All Right Result